Ok, allora incominciamo questo discorso di questa sera che è incentrato sugli impedimenti, visto che è il momento in cui ci sono molto vivi questi impedimenti, gli impedimenti sorgono proprio nei primi giorni del ritiro. Ok, allora siccome abbiamo iniziato ieri sera questo percorso un po' sul Satipattana, praticamente saltiamo, andiamo all'ultimo Satipattana che è quello sui Dhamma, perché la parte riguardante gli impedimenti rientra proprio nel quarto fondamento della consapevolezza. Ok, però volevo fare una piccola introduzione. All'inizio, nella definizione del Satipattana, quando il Buddha dà i quattro Satipattana, alla fine vi leggo solo il pezzettino, così almeno avete idea di quello che voglio dirvi. Allora, dice, in relazione ai Dhamma, dimora contemplando i Dhamma, diligente, chiaramente cosciente e consapevole, libero da desideri e scontento nei riguardi del mondo. Quindi memorizzatevi un po' questa frase, perché è importante, perché dentro a questa frase praticamente dice che è liberi dallo scontento e dai desideri, che rientrano appunto i cinque impedimenti, è chiaro? Ma quindi da questa frase sembrerebbe che uno può iniziare a meditare quando ha superato questi impedimenti. Ok, quindi se non ha superato gli impedimenti è come se non potesse meditare. In realtà i commentari dicono di questa frase, che fa proprio parte della pratica superare gli impedimenti. Ok, altrimenti non sarebbe giustificato il fatto che il Buddha li abbia messi nel quarto fondamento della consapevolezza, e li ha messi proprio al primo posto. Quindi questo non significa che noi possiamo allora metterci a meditare quando abbiamo superato il desiderio, quando abbiamo superato il dubbio, quando abbiamo superato tutti i cinque impedimenti. Anzi, sono parte della pratica e sono importanti perché, e questo dobbiamo anche ricordarlo molto bene, perché se sono presenti questi cinque impedimenti, la concentrazione difficilmente può sorgere. Ok? Quindi c'è da fare prima tutto questo lavoro preliminare, diciamo così, per superare questi impedimenti. Nel momento in cui la mente è libera dagli impedimenti, allora possiamo accedere a stati di concentrazione. Quindi questo, diciamo, è una nota introduttiva. E poi adesso vado a spiegarvi bene questa cosa del quarto fondamento. Allora, e dice, il quarto fondamento dice, E in che modo, monaci, in relazione ai Damma, dimora contemplando i Damma? Ecco, in relazione ai Damma, contempla i Damma dal punto di vista dei cinque impedimenti? E qui elenca. E dice, se in lui è presente il desiderio dei sensi, sa, c'è desiderio dei sensi in me. Se il desiderio dei sensi non è presente, sa, non c'è desiderio dei sensi in me. E sa come può sorgere il desiderio dei sensi non ancora sorto, come può essere eliminato il desiderio dei sensi, e come il sorgere del desiderio dei sensi eliminato può essere prevenuto in futuro. E così, diciamo, lenca tutti gli altri impedimenti. Ok? Quindi, il quarto fondamento della consapevolezza, appunto, è chiamato la contemplazione dei Damma. E l'abbiamo letto adesso. Quindi, vediamo un po' il significato della parola Damma. Ha molti significati. In base al contesto in cui questa parola si trova. Può significare verità, può significare legge o gli insegnamenti del Buddha. Come anche, l'altro significato, altri significati sono come le componenti psicofisiche. Ciascuno degli elementi mentali e fisici sono chiamati Damma. Di solito viene anche tradotto come fenomeno, fenomeni. Ok? Molti traduttori attribuiscono al termine Damma, nel contesto del Satipatthana, il significato di oggetti mentali. Nel senso che tutto quanto può diventare oggetto della mente. Annalaio, che è questo monaco molto intelligente, ha una cultura vastissima, che ha appunto fatto il commentario sul Satipatthana Sutta, Annalaio ipotizza che il termine Damma sta per categorie di fenomeni, con speciale riferimento al funzionamento dei vari Damma o elementi dell'esperienza. E il Buddha, in questa sezione del Sutta, inserisce i principi organizzatori del suo insegnamento, che sono appunto gli impedimenti, quindi quello che, come dire, è quello che noi troviamo all'interno del quarto fondamento della consapevolezza, quindi gli impedimenti, i cinque aggregati dell'attaccamento, le sei sfere sensoriali, i sette fattori del risveglio e le quattro nobili verità. Non so se noi in questo ritiro riusciremo a vedere tutte queste cose, perché sono argomenti abbastanza impegnativi, però insomma cercheremo un po' di spiluzzicare qua e là, ok? Quindi il Buddha inizia con gli impedimenti, perché quando non ne siamo consapevoli, questi impedimenti imbrigliano, imprigionano, catturano la mente, e le impediscono di distinguere le azioni costruttive da quelle non costruttive e ostacolano la concentrazione, come vi dicevo prima, ostacolano la concentrazione e gli altri fattori del risveglio, così da non rendere comprensibili le quattro nobili verità. Le conoscete, le quattro nobili verità? Allora, la prima nobile verità è che c'è la sofferenza. La seconda nobile verità dice che c'è una causa della sofferenza, che è la brama. La terza nobile verità dice che c'è la cessazione della sofferenza. La quarta nobile verità dice che c'è il sentiero che porta alla liberazione della sofferenza, che è lo tuplice sentiero. Giusto così, brevemente. E quindi, cominciamo dagli impedimenti. Quindi, il Buddha usa due similitudini per descrivere l'effetto degli impedimenti. La prima la troviamo nel Sangarava Sutta. Qui viene descritta, in questo Sutta, c'è la descrizione, l'immagine di uno specchio d'acqua, limpida, in cui ci si può specchiare. Quando c'è il desiderio sensuale è come se l'acqua fosse colorata, è come se qualcuno mettesse nell'acqua delle tinture colorate. I desideri colorano la percezione e non possiamo vedere più l'acqua limpida. L'avversione è come acqua che ribolle, ok? Quindi, l'acqua che bolle. Non vediamo distintamente quando siamo surriscaldati dalla rabbia e siamo in uno stato di turbolenza. L'indolenza e il torpore sono paragonati all'acqua coperta dalle alghe e non vediamo chiaramente. L'irrequietezza e la preoccupazione sono come l'acqua increspata dal vento. Quindi, la mente vaga di qua e di là, proprio grazie all'agitazione. E infine, il dubbio scettico, il dubbio, è come l'acqua fangosa, dove non si può vedere il fondo e tutto è oscurato. Quindi, ogni impedimento è associato a come viene presentata quest'acqua. La seconda similitudine richiama invece la condizione emotiva di chi è preda degli impedimenti e cosa prova quando se ne libera. Allora, e qui ve la leggo perché è molto molto interessante. Ok. In questa similitudine, il Buddha praticamente mette a confronto lo stato in cui ci sono gli impedimenti dal punto di vista emotivo e poi, subito dopo, ci spiega come è lo stato emotivo senza gli impedimenti. Quindi, ascoltatelo con attenzione, è molto interessante. Bikku Considerando questo, sarebbe lieto e pieno di gioia. Oh, immaginate un uomo che è rinchiuso in carcere, ma che poi ne esce sano e salvo e senza perdere i suoi averi. Considerando questo, sarebbe lieto e pieno di gioia. Oh, immaginate un uomo che è schiavo, non autonomo ma dipendente da altri, che non può andare dove vuole, ma che poi si emancipa e diventa autonomo, indipendente da altri, un uomo libero che può andare dove vuole. Considerando questo, sarebbe lieto e pieno di gioia. Oh, immaginate un uomo che con le proprie sostanze e i propri averi attraversa una landa desolata, ma che poi ne esce sano e salvo e senza perdere i suoi averi. Considerando questo, sarebbe lieto e pieno di gioia. Allo stesso modo, Bikku, quando questi cinque impedimenti non sono stati abbandonati, un Bikku li considera rispettivamente come un debito, una malattia, un carcere, una schiavitù e una landa desolata. Quindi il Buddha qui paragona come un debito il desiderio sensoriale, una malattia, l'irrequietezza, il carcere, la malevolenza, una schiavitù come la sonnolenza e il torpore e la landa desolata e il dubbio scettico. Ma quando questi cinque impedimenti sono stati abbandonati, li considera come l'estinzione di un debito, una guarigione, una scarcerazione, l'emancipazione dalla schiavitù e una landa sicura. Quindi, queste cinque similitudini sono una rappresentazione del modo in cui la nostra mente è influenzata dalla presenza di questi stati mentali. Quindi cerchiamo di notare chiaramente e direttamente come si influenzano, come ci influenzano e condizionano la nostra vita. Il Buddha in questo passo ci ricorda che abbandonare questi impedimenti è un passo avanti verso il risveglio. Imparando a riconoscerli con attenzione, noteremo la loro natura vuota e di come siamo sensibili al loro fascino. Quindi, che cosa dobbiamo fare per lavorare con gli impedimenti e abbandonarli? Dobbiamo trovare una via di mezzo, ok? Non dobbiamo utilizzare l'indulgenza, ma non dobbiamo neanche utilizzare la repressione verso questi stati. Allora, il primo passo è riconoscerli. Ci sono cinque step, ok? Cinque passi per riconoscere l'impedimento. Partiamo dal desiderio sensoriale. Quindi, se c'è del desiderio, siamo consapevoli del desiderio presente nella mente. Quando non lo riconosciamo, ci perdiamo semplicemente nella sua energia. Il secondo passo è sapere quando è assente. È l'arte di riconoscere deliberatamente l'assenza degli impedimenti. In questo caso, del desiderio. Il Buddha definì questa mente la mente radiosa, libera dal desiderio, ed è la base per la contentezza, la gioia e la concentrazione di Vipassana. Quando c'è questa mente radiosa, sorge la gioia, e con la gioia la contentezza, e a quel punto allora sorge la concentrazione. E' importante, quindi, riconoscere quando non c'è il desiderio, proprio perché ci porta a questo. Il terzo passo è conoscere quali sono le condizioni che fanno sorgere il desiderio. Ci sono molte cose che fanno sorgere il desiderio, e se non siamo consapevoli di questo, è facile che si abbini il condizionamento abituale del desiderio e della brama. Per esempio, durante il ritiro, siamo in fila in attesa del pranzo, può sorgere il desiderio del cibo, e poi ci troviamo persi nei nostri pensieri, riguardo a proprio il cibo. Chissà come è cucinato, che sapore avrà, sarà la stessa cosa che ho mangiato tre giorni fa, oppure sarà cambiato. Quindi siamo trasportati dietro alle nostre fantasie, e questo ce lo portiamo anche per i giorni successivi, non è che finisce lì, ma continua a ripetersi questa condizione. Da qui si capisce l'importanza di sapere quali pensieri ci passano per la mente, perché se diventano ripetitivi, più tenderanno a ripresentarsi. Ed esserne consapevoli ci toglie dalla distorsione percettiva che possono essere fonte di felicità duratura. Ma questo è impossibile, vista la loro natura impermanente. Dobbiamo evitare l'eterno errore di credere che la felicità si ottiene con l'esaudire i propri desideri. L'abbiamo già visto la prima sera, vi ricordate il discorso sulla felicità. Nel ritiro possiamo comprendere meglio questo, viviamo semplicemente, non abbiamo molto di che svagarci in un ritiro, ma è nella vita normale che rappresenta una grande sfida, visto come siamo bombardati da stimoli sensoriali molto forti che ci spingono a cercare gratificazione negli oggetti sensoriali. E questo è il terzo passo. Il quarto passo è sapere quali sono le condizioni che ci sono sotto la scomparsa del desiderio. Questo avviene nel momento in cui siamo consapevoli del desiderio sensoriale. Quando è già sorto, non siamo più persi nel desiderio, smettiamo di alimentarlo e di identificarci con esso. Questo ci permette di cogliere la natura impermanente e impersonale. Ed è qui che comprendiamo l'importanza della presenza mentale, perché essa è la radice di tutto ciò che è sano. E qui presenza mentale, che è differente dalla sati, da consapevolezza. Ve lo spiegherò meglio domani sera, comunque vi do giusto un assaggio. Abbiamo sati, che è la consapevolezza, e poi abbiamo sampagiano, che è la presenza mentale. Questi due viaggiano insieme, accoppiate, perché la consapevolezza ci fa, come dire, conoscere l'oggetto. La presenza mentale ce lo fa indagare. Diciamo che la presenza mentale è l'ala specialistica della consapevolezza. Ok? Per renderla, come dire, un po' più comprensibile. Però lo vedremo domani sera, questo discorso di sati e sampagiano. Dunque, il quinto passo è prevenire il sorgere del desiderio. E questa è l'ultima istruzione rispetto agli impedimenti. Sapendo come sorge, prendiamo delle precauzioni, così da prenderci cura della nostra salute mentale e fisica. Il Buddha parla anche di custodire le porte dei sensi. Le porte dei sensi sono sei. I cinque sensi più il senso della mente. Cioè essere consapevoli nel momento preciso in cui c'è un contatto con ciascun senso. Ma ci indica anche di, per esempio, moderarci nel cibo e di associarci con amici saggi. Questi cinque step ci aiutano a capire la natura condizionata e impersonale di tutti i fenomeni. Tutti i fenomeni sorgono quando ci sono le condizioni adatte. E passano quando le condizioni cambiano e dietro non c'è un sé che li fa muovere, ma sorgono in maniera naturale, in base alle condizioni. Vediamo adesso il secondo impedimento, che è l'avversione. Il termine pali per avversione è patiga, che significa battere contro. Bikku Bodhi lo interpreta come una forma di resistenza, repulsione e distruttività. E include quelle manifestazioni di una mente che condanna, con stati di rabbia, odio, collera, rancore, malanimo, irritazione, anche la paura. E in forme più sottili la tristezza e il cordoglio. Rientrano tutti sotto questo cappello. Tutti questi stati mentali hanno la radice nell'odio o dosa, ma nonostante questo stato mentale sia potente e a volte nascosto. La forza della consapevolezza ci aiuta ad esplorare con chiarezza nella nostra mente, per indebolire ed eliminare queste tendenze che sono molto radicate. Come abbiamo visto con il desiderio, lo facciamo con l'avversione. Prima di tutto, diveniamo consapevoli della presenza o assenza dell'avversione. Poi delle condizioni che l'hanno portata a nascere. E osservare che i vari stadi di avversione sono reazioni condizionate a qualcosa che troviamo di sgradevole. Per esempio, incontro una persona che mi ha fatto del male, la condizione è quella di aver incontrato la persona che mi ha fatto del male. E lì sorge l'avversione, sorge l'odio o la rabbia verso questa persona. E' facile vedere questo condizionamento con il dolore fisico. Quando sorge il dolore, reagiamo con avversione. Perché non lo vogliamo? Abbiamo paura? Ci scoraggiamo? Ci contraiamo? O siamo impazienti? E vogliamo che passi immediatamente? Questo lo vediamo chiaramente durante la pratica, quando sorge un dolore. Ci poniamo nei suoi confronti con rabbia, con avversione. Non lo vogliamo. Abbiamo paura che ci possa succedere qualcosa di grave o che possiamo morire. Mentre, se rimaniamo consapevoli del dolore, osservandolo con pazienza ed accettazione, quel dolore o tensione avrà un suo processo e poi svanirà. L'avversione nasce anche quando pensiamo a situazioni dolorose o sgradevoli. Se pensiamo a una certa persona che ci ha fatto uno sgarbo o, ad esempio, in cui ci siamo arrabbiati, ecco che sorge l'avversione. Ma può sorgere anche se pensiamo a cose che potrebbero verificarsi in futuro. Per esempio, se penso a una persona che potrò incontrare al mio ritorno dal ritiro, che non mi è molto simpatica e mi ha fatto qualcosa di spiacevole, ecco che sorge subito l'avversione. E' qui che possiamo notare il legame stretto tra pensiero ed emozione. E l'uno innesca l'altro, provocando una reazione a catena di proliferazione mentale di pensieri. Per esempio, nasce un pensiero e se noi non ne siamo consapevoli, segue immediatamente un'emozione. E lo stesso accade all'opposto. Da un'emozione abbiamo un fiume inarrestabile di pensieri. Osservare ripetutamente la relazione condizionata fra questi due, ci aiuta a indebolire l'identificazione con ciò che emerge e a capire la natura condizionata degli impedimenti e degli altri stati mentali. In ritiro possiamo osservare come nasce l'avversione in modo molto evidente. Lo vediamo, il nostro vicino incomincia a muoversi e ci disturba. Ok? Quel fatto che il vicino si muova, no? Cioè, non è colpa nostra, però noi subito, pam, iniziamo ad avere pensieri, no? Di avversione e di rabbia. Ah, ecco, si è mosso, ho perso la concentrazione, ma perché arriva sempre in ritardo? Qui abbiamo tutta una serie di pensieri. E non ditemi che non vi è successo, perché succede a tutti questa cosa, no? Subito si innesca il giudizio e al giudizio si innesca anche la rabbia, no? Perché è come se ci avesse fatto un'offesa, giusto? Quello entra, sbatte la porta, sobalzo, dico, Dio, mi sono spaventato. Ma perché sbatte sempre la porta quello lì, ogni volta che entra, no? Succede questo. Ma questo succede anche nella vita quotidiana. Possiamo sperimentare questo stato, per esempio, quando siamo in coda, in banca, e si blocca tutto e non riusciamo a sbrigarci in tempo. O siamo alla fermata dell'autobus e questo arriva in ritardo. Ecco sorgere l'avversione. Quante volte arriva l'autobus in ritardo e incominciate a imprecare? Quante volte? Tutte queste sono situazioni che non riguardano noi personalmente e sono dovute a cause, chiaramente, al di là del nostro controllo. Ma noi ci comportiamo come se fosse uno sgarbo personale. Cioè, l'autista che trova la coda e arriva in ritardo alla nostra fermata, cioè, noi lo prendiamo come se fosse un affronto personale, ok? Ma anche perché poi ci arrabbiamo perché poi arriviamo in ritardo al lavoro, no? Quindi c'è tutta una concatenazione. Il Buddha riassume tutte queste cause di avversione nella sua funzione della mente, che soffre, perché nasce quando non si ottiene ciò che si vuole, oppure si ottiene ciò che non si vuole. Il primo e più diretto approccio verso questo stato è esserne consapevoli, senza giudicare o giudicarci per il fatto di provarla. Semplicemente la riceviamo, come uno stato mentale che è sorto. Risulta utile prendere la nota mentale, annotando avversione, avversione, o malanimo, o malanimo, o rabbia, rabbia, o scoraggiamento, eccetera, eccetera, finché continuiamo a notare, finché non scompare. A un certo punto lo stato mentale cambierà, e notare la sua scomparsa è un passo importante per approfondire la percezione del suo carattere impermanente. Quindi è molto importante, perché noi abbiamo questa idea che le cose non cambino. Invece, nella pratica, noi dobbiamo andare a osservare direttamente il carattere impermanente delle cose, che hanno un loro processo, hanno un loro sorgere, un loro evolversi e un loro cessare. Un altro modo di indagine per eliminare gli impedimenti quando sono sorti è osservare l'atteggiamento mentale, che assumiamo verso l'emozione. Pensiamo di essere consapevoli, ma spesso alimentiamo l'avversione con le nostre reazioni. Se questi stati persistono, allora usiamo la saggia riflessione, chiedendoci a chi fa bene rimanere in questi stati e scoprire che siamo solo noi a soffrire. Perché è come tenere un carbone acceso in mano. Ok? Chi è che si brucia? Noi, perché ce l'abbiamo in mano il carbone. Certo, non la persona di fronte. Infine, per pervenire il sorgere di questo stato è coltivare la benevolenza, la metta. E quella generosità di cuore che desidera il bene, la felicità di tutti gli esseri. Abbiamo visto ieri sera, no? Durante la pratica di metta, quando ho dato la spiegazione. Quindi, metta è l'antidoto proprio per questo stato di rabbia. Mentre la gioia compartecipe, abbiamo visto che è l'antidoto per l'invidia. Grazie. Quindi, e questo è il discorso sull'avversione. Passiamo ora all'indolenza e il torpore. Sono diversi, ma sono strettamente collegati, sono affini e si presentano insieme. L'indolenza è una forma di pigrizia mentale che fa perdere energia. Mentre il torpore è una ottusità dei fattori mentali e provoca una certa rigidità. Quindi non c'è agilità, non c'è flessibilità mentale. Ed è come una coperta pesante che soffoca i fattori mentali. Quindi ci sentiamo fiacchi e sonnolenti. La sonnolenza e l'apatia sono esperienze comuni all'inizio del ritiro. Soprattutto se arriviamo da un periodo particolarmente stressante. Oppure se abbiamo vissuto delle situazioni particolarmente difficili. E qui ci potete vedere voi quali sono state le situazioni difficili. Lo stare in silenzio e il non avere delle distrazioni provocano una situazione di astinenza che sfocia nella ottusità e nella sonnolenza. Ma con il tempo si attinge alla fonte di energia che c'è dentro di noi e la mente diventa più sveglia e agile. Comunque bisogna prestare attenzione perché questi impedimenti possono diventare sottili e difficili da riconoscere. E questo succede se andando avanti nel ritiro in qualche misura sono presenti. Cioè è normale quindi avere questi stati all'inizio del ritiro i primi due giorni. Facciamo anche il terzo. Ok? Ma se questo prosegue nel tempo allora lì diventa una forma di di sbarramento diciamo. È come se la mente non vuole vedere qualcosa. E allora mette in atto questa forma di sonnolenza e di torpore. Sì, infatti come dire è come se invece di andare incontro all'esperienza ci si tira indietro e quindi arriva la sonnolenza e il torpore. Questa abitudine a ritirarsi dalle difficoltà rinforza la tendenza alla pigrizia e alla inattività alla passività e alla letargia. quando prendono il controllo sulla mente in qualunque modo c'è la tendenza a volerlo conservare ed è raro che molli perché è uno stato piacevole seducente intimo confortevole succede nei colloqui che qualcuno lo dica questo mi trovo così bene quando sono in quello stato che sono lì che sono quasi addormentato ecco questo qui è una forma molto sottile di sonnolenza e torpore bisogna fare attenzione perché ci si crogiola un pochino si sta bene anche perché se non si ha sonnolenza e torpore magari si incontrano degli stati difficili e quindi magari la mente dice no non voglio vederlo ok e quindi mette questo questo paravento quando la mente è contratta sotto questi impedimenti la gioia e il piacere scarseggiano sia nella pratica che nella vita quotidiana allora il primo passo è notare semplicemente che sono presenti e quando sono assenti è capirne la differenza dopodiché osserviamo le condizioni in base a cui sorgono un'attenzione superficiale ci fa credere che non vi sia nulla di male in questi stati o indulgere in pensieri tipo sono veramente stanco ma che noia qui questi impedimenti si mascherano da compassione per se stessi facendoci pensare che abbiamo bisogno di riposo e di prenderci cura di noi stessi un altro aspetto consistente del non riconoscerli quando sorgono in noi delle forti emozioni difficili ricordi di situazioni traumatiche allora l'indolenza e il torpore si pongono a difesa per non farceli sentire un'altra causa è mangiare troppo del torpore qualcuno di voi oggi l'ha detto durante un ritiro stiamo molte ore seduti e se mangiamo troppo questo può appesantire la digestione e la mente diventa sonnolenta e per quello che esiste il sesto precetto quello di non mangiare dopo pranzo dopo mezzogiorno perché in questo modo nel pomeriggio come dire abbiamo il tempo per avere la digestione e quindi alla sera se non si mangia la mente rimane molto più vigile più sveglia perché non abbiamo un'altra volta il problema di affrontare una digestione quindi si può praticare tranquillamente questo è un motivo per cui si evita di mangiare si prende il sesto precetto un'altra condizione del loro sorgere è uno squilibrio tra concentrazione ed energia se la concentrazione è troppa rispetto all'energia allora la mente sprofonda in uno stato sognante molto gradevole accompagnato da una sensazione di pace e leggerezza ma non c'è lucidità ok vuol dire che noi non non vediamo chiaramente l'oggetto anche se c'è concentrazione ma è troppa e quella troppa energia ci fa cadere in questo stato di sonnolenza ci sono diverse categorie e strategie per superare questi ostacoli prima di tutto essere consapevoli poi si può cambiare la posizione si può meditare in piedi quando si è molto sonnolenti vedete che incominciate a ciondolare in avanti o a ciondolare di lato allora per prevenire questo stato potete alzarvi in piedi e meditare in piedi è difficile che uno si addormenti in piedi ma è successo se se anche questo non funziona allora si va a fare una camminata veloce cioè non che uno prende e va in paese a bere un caffè fa una camminata la meditazione camminata ma la fa un po' più energica e questa fa sollevare un po' l'energia poi ci sono altre strategie tirarsi le orecchie bagnarsi la faccia fissare una luce una fonte di luce con gli occhi aperti e se tutto questo non funziona alla fine anche il Buddha si arrese e dice andate a fare un pisolino perché anche lo stesso Buddha ha espresso questa opinione perché mi sembra fosse Mogallana uno dei suoi discepoli più importanti che soffriva di questo problema che aveva molta sonnolenza e torpore allora il prossimo impedimento è contrapposto a questo che è l'irrequetezza e la preoccupazione vedete come vanno in sequenza quando avete superato la sonnolenza e il torpore incominciate ad agitarvi il termine pali per irrequetezza è udaccia ma che a me piace udaccia che significa agitazione cioè dà proprio il senso udaccia dal senso di agitazione eccitazione o distrazione viene anche tradotto come sfarfallare perché la mente non si concentra sull'oggetto di meditazione ma continua a girarci intorno il termine pali invece per la preoccupazione anche qua guarda sentite cucuccia dà proprio la sensazione di uno preoccupato che lì cucuccia è lo stato mentale del rimorso o dell'ansia e il sentire di non aver fatto il proprio dovere o fatto qualcosa che non dovevamo fare la prima istruzione ovviamente è applicare la consapevolezza per vedere se sono presenti o assenti questi stati come abbiamo fatto con tutti gli altri impedimenti e sapere che possono assumere forme ovvie e sottili quella ovvia è l'irrequietezza del corpo che non riesce a stare fermo invaso da una energia agitata a livello della mente ci perdiamo invece ripetutamente dietro ai pensieri che diventano turbolenti e assumono spesso una qualità ossessiva ok quindi incominciamo a sentire irrequietezza nel corpo non riusciamo a stare fermi quindi cominciamo a muoverci spostiamo un cuscino spostiamo l'altro cuscino poi ci sentiamo poi ci giriamo poi ci grattiamo e poi facciamo così e poi facciamo cos'ha no? oppure a livello mentale arrivano magari è un solo pensiero ma che si continua a ripetere in continuazione e non c'è e non c'è verso che si riesca a scollarsi da quel pensiero perché è come proprio un motivo che si ripete in continuazione quando siamo consapevoli alla concentrazione discreta ma anche per pochi attimi la mente si perde in qualche pensiero e siamo portati via dal flusso della presenza mentale questa è una forma sottile di irrequietezza ok? magari siamo come dire consapevoli dell'oggetto stiamo osservando l'oggetto ma magari non in maniera approfondita ed è come se arriva un pensiero veloce che passa nella mente e ci si aggancia a quel pensiero ok? e poi si parte con l'indolenza e il torpore e l'irrequietezza come scusate come l'indolenza e il torpore e l'irrequietezza non viene sradicata del tutto pensate anche attraverso i quattro stadi dell'illuminazione si deve arrivare all'ultimo stadio quando si diventa Rahant solo allora si perde questo impedimento quindi è duro a morire l'irrequietezza e anche se riconosciamo la sua natura illusoria la natura illusoria del sé e non si ha più desiderio e avversione rimane una sottile irrequietezza nella mente che ha radici molto profonde anche la preoccupazione si manifesta in diversi modi a volte prende la forma di rimorso e rimpianto per azioni non costruttive fatte operazioni costruttive non terminate non portate a termine a volte ci preoccupiamo per cose del futuro che ancora non ci sono e spesso siamo in ansia per problemi in anticipo vi sarà capitato sicuramente questa cosa è vero una preoccupazione molto ricorrente nel ritiro questo l'ho verificato nei colloqui che è soprattutto dalle donne proviene questo tipo di preoccupazione è quello di aver lasciato che accompagnato dal senso di colpa quello di aver lasciato a casa il marito i figli la mamma la zia la nonna qualsiasi e fa proprio parte di questo impedimento noi siamo qui ma nello stesso tempo abbiamo la mente preoccupata di chi abbiamo lasciato a casa ah ecco ho lasciato mio marito a casa chissà se riesce a prepararsi da mangiare bim bum bam oppure i figli chissà se i figli riescono eccetera eccetera e questo è proprio un live motive che ho constatato nelle donne allora in questi casi quando sorgono tutti questi pensieri è bene ricordare che preoccuparci non influisce su cose che non sono ancora avvenute cioè se noi ci preoccupiamo delle cose del futuro mentre ha l'unico risultato di renderci tesi e ansiosi anche nella pratica ci preoccupiamo perché a volte ci creiamo degli obiettivi sul percorso e tendiamo a dare molto peso ai nostri progressi e si scivola nell'autocritica o ci paragoniamo agli altri meditanti perdendo la serenità di stare nel momento presente questo succede tantissime volte ah sì no io non ce la faccio apro un attimo gli occhi e vedo tutti seduti fermi che non si muovono e io invece non riesco a stare ferma e questo sarà successo o vi succederà sicuramente andando avanti con il ritiro è una forma anche questa di preoccupazione come primo passo abbiamo sempre quello di notare se questi due stati mentali sono presenti o no poi osserviamo cosa provoca il sorgere spesso l'irrequietezza deriva da un eccesso di energia non adeguatamente contenuta dalla concentrazione portiamo un'attenzione superficiale ai nostri pensieri o agli stati mentali di inquietudine e veniamo risucchiati dai contenuti della mente soprattutto chi predilige il pensiero discorsivo e quindi tutti perché tutti quanti abbiamo questa tendenza anche parlare troppo o fare delle discussioni porta all'irrequietezza e per questo motivo è utile il nobile silenzio durante il ritiro quindi è importante divenire consapevoli di questi stati per non perderci si dentro e ciò permette all'energia e alla concentrazione di trovare il proprio equilibrio adesso vediamo l'ultimo il dubbio scettico possiamo distinguere due tipi di dubbio nel primo caso è utile è una parte di ogni indagine che ci motiva a esaminare le cose in modo accurato ok quindi per esempio stiamo leggendo un giornale e vogliamo verificare la veridicità della notizia no è una forma di dubbio quello sarà vera la notizia oppure no non crediamo dogmaticamente a tutto ciò che viene detto ma non è neppure il caso di rifiutarlo a priori perché non corrispondono alle nostre idee attuali quindi è questo il primo caso del dubbio il secondo tipo di dubbio è invece considerato un impedimento è uno stato mentale di incertezza ed indecisione è come essere ad un incrocio e non sapere da che parte andare la mente si sposta da una parte all'altra senza decidere niente rimane lì ferma immobile il dubbio quando non viene riconosciuto diventa uno degli impedimenti più pericolosi perché ci fa perdere la fiducia in noi stessi e nella pratica con la conseguenza di abbandonare il sentiero nel contesto del satipattana il dubbio fa proprio riferimento alla pratica poi al Buddha al Dhamma e al Sangha quindi potremmo chiederci quale senso ha ancora oggi gli insegnamenti del Buddha che ha dato migliaia di anni fa o addirittura chiedersi se sono stati veramente enunciati poi potrebbe sorgere il dubbio rispetto alla pratica e chiedersi che senso ha stare qui a osservare l'addome non serve a nulla così confrontiamo varie tecniche di meditazione che troviamo in giro e ci chiediamo quali di queste hanno validità un'altra ondata di dubbio può riguardare proprio noi stessi e chiederci se siamo in grado di praticare e quindi ci si pone delle domande tipo sono capace di meditare lo sto facendo bene è troppo difficile per me e così via quando l'insicurezza è forte non solo è un ostacolo alla pratica ma diventa anche una parte debilitante della nostra vita quotidiana prendiamo l'abitudine di tagliarci le gambe rifiutandoci di fare l'esperienza il grande fascino del dubbio sorge e non lo vediamo perché spessissimo è mascherato da un atteggiamento di saggezza dentro di noi sorgono pensieri e voci che si fanno domande sulle nostre capacità e ci diamo anche delle risposte che sembrano giudiziose senza renderci conto che quei pensieri non sono altro che il dubbio quindi il primo passo è riconoscere il dubbio quando sorge poi notare quando il dubbio non è presente una delle cause per cui sorge il dubbio è che c'è una consapevolezza superficiale che non si accorge dei pensieri che arrivano portiamo avanti quindi la pratica in modo non accurato senza prendere nota immediatamente appena sorgono i pensieri un altro aspetto dell'attenzione superficiale è che non distinguiamo fra gli stati mentali salutari e non salutari e senza questa comprensione non siamo in grado di superare le forze dell'avidità dell'avversione e dell'illusione che ci fanno commettere molti errori e sono il terreno di cultura del dubbio l'antidoto del dubbio è il fattore della fede fede fiducia bhikkhu body paragona la fede a una gemma che se immersa nell'acqua torbida ha l'effetto di purificarla e renderla limpida quando sorge il dubbio durante un ritiro possiamo rivolgerci all'insegnante che è lì in quel momento che può chiarire questi dubbi meglio parlare subito con l'insegnante perché se no se noi continuiamo a coltivare questa cosa del dubbio il rischio punto è quello di perdere fiducia nella pratica perdere fiducia nel sentiero e quindi abbandonare tutto ok io ho finito vi ringrazio aspetta aspetta che 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 Grazie.